Il grande sacrificio di Bigio, Pierluigi Ricci, 57enne bagnino fanese, morto negato a causa di un malore nello sforzo di salvare in mare tre turisti a Torrette di Fano, non deve essere dimenticato. Per questo, con il sostegno dell'amministrazione comunale, è stato organizzato un concerto per Bigio, che si svolgerà mercoledì 6 settembre alle ore 21.30 alla Rocca Malatestiana, con musica e poesie in onore di questo cittadino fanese, capace di un gesto eroico che gli è costato la vita. La parte musicale della serata vedrà, quali interpreti, anche numerosi amici di Bigio. La cantante Elisa Ridolfi, Stefano Fucili, chitarra e voce, Luca Vagnini, chitarra e voce, Tommaso Baldini, chitarra e buzzuchi, Carlo Simone al piano, mentre la voce narrante sarà dell'attore Fabrizio Bartolucci. L'ingresso al concerto, in onore di Pierluigi Ricci, è libero e durante la serata saranno raccolti i fondi a favore della famiglia. L'amministrazione comunale coglie l'occasione in questo incontro per ribadire la volontà di riconoscere il valore del grandissimo gesto di altruismo compiuto da Pierluigi, un gesto di solidarietà umana che non verrà dimenticato. Grazie a tutti.